Martina Colombari nasce a Riccione nel 1975 e termina il suo percorso di studi conseguendo la maturità scientifica, nell'ottobre 1991, subito dopo essere stata eletta Miss Italia, viene chiamata dall'Agenzia Internazionale di Modelle Riccardo Gay Model Management e viene inserita tra le top models internazionali dell'epoca. Lavora per Giorgio Armani, Gianni Versace, Blu Marine, Roberto Cavalli, e molti altri, in seguito partecipa ai più importanti eventi di moda televisivi del periodo, come Donna sotto le stelle nella cornice di Piazza di Spagna e successivamente Piazza Navona, preludio di quello che diventerà in seguito Alta Roma. Inizia così una ventennale carriera nella moda, che la porta a lavorare con i più grandi fotografi del mondo e le più importanti Maison. Presta la sua immagine a numerosi marchi per campagne pubblicitarie di abbigliamento, accessori, cosmetici e prodotti di lusso. È presente costantemente su testate italiane di moda e lusso come Vanity Fair, Grazie, Lampune Style. Parallel, parallelamente inizia a lavorare in televisione con il ruolo di co-conduttrice in vari programmi. Un disco per l'estate, Vota la Voce, Super, Juve Centus, Controcampo, Goleada e Galagol, dopo aver studiato dizione con l'attrice Giorgia Trasselli. Nel 1991 debutta come attrice nel film Abronzatissimi, per la regia di Jerry Cala, a cui seguono Paparazzi, 1998, di Neri Parenti, Quello che le ragazze non dicono. 2000, diretto da Carlo Vanzina, Shea, per la regia di Timothy Bond. Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella serie TV di Canale 5, Carabinieri, in cui è Gioia Capello. Ruolo che ha anche in Carabinieri 2. L'anno successivo è protagonista nel ruolo della nutrizionista Carlotta Wilson nella terza stagione. Di un medico in famiglia. Nel 2004 è su Rai 2 come protagonista della serie Diritto di Difesa. Nel 2006 delle due stagioni della sitcom Radio Sex, trasmesse da Liceon TV e poi dal canale satellitare Sky Show, oltre ad apparire su Canale 5 in alcuni episodi dei Cesaroni. Nel 2008 ritorna a interpretare il ruolo di Gioia Capello nella settima stagione di Carabinieri, e di Rachele nella seconda stagione dei Cesaroni. Nello stesso anno è tra gli interpreti della miniserie TV di Rai 1. Fidati di me, reggia di Gianni Lepre. È del film TV di Canale 5. VIP, regia di Carlo Vanzina. Nel 2009 partecipa come guest star ad un episodio della fiction Raido Matteo 7 con Terence, Inile, Nino Frassica, in onda a partire da settembre. Nel 2010 è interprete di Al di là del lago. Fiction di Canale 5 e, nello stesso anno, è protagonista della fiction Il Restauratore. Per Rai 1 con Lando Buzanca. Per la regia di Giorgio Capitani e Laura Basile. Nel novembre 2010 firma la mostra fotografica Martina Trattino Basso Invisibile. Autoritratti scattati dalla stessa Martina. Come soggetto principale. Che vengono esposti a Milano allo spazio forma su progetto di Settimio Benedusi e a cura di Dennis. Curti, il 16 febbraio 2011 esce il libro autobiografico La vita è una. Scritto in collaborazione con Luca Serafini. Edito da Rizzoli. Nel 2011 partecipa come concorrente del talent show Baila. Condotto su Canale 5 da Barbara D'Urso. Ballando in coppia con il nuotatore Luca Marin. Sempre nello stesso anno interpreta nuovamente il ruolo di Maddalena nella serie televisiva Il. Restauratore. In onda dall'8 gennaio 2012 su Rai 1. Nel marzo 2012 ha girato il film Barbara Edio. Con la regia di Raffaele Esposito. In cui recitano anche Blas Roca Reie e Michelangelo Rossi. La pellicola non è mai stata proiettata nelle sale. Nel 2014 esce il film Bologna 2 agosto I giorni della collera. Per la regia di Giorgio Molteni. Con Giuseppe Di Maggio e Lorenzo Flaerti. Recita nel musical La febbre del sabato sera. Al Teatro Nazionale di Milano. 2012-2013. E in The Best of Musical Tour Nazionale 2014. È ambassador per Expo 2015 Nutrire il pianeta. Energia per la vita. Partecipa nel 2016 alla Fiction TV Un Traditional di Fabio Volo sul 9.